bella tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video contest io sono xuder e lui è lo squalone allora ragazzi oggi salutato uno squalone cosa vuol dire no ma il tipo sta scialando nel lago con il cosa scuola oggi ragazzi il video veramente interessante su bello che tanto che non si diceva più pregato oggi ragazzi non noi ma un nostro grande amico il signor capuano pro sarebbe pro capuano se dovete andarlo a cercare se non lo trovate non è proprio capuano allora andate nella home page della mia pagina youtube che trovate nella destra il link del canale di questo ragazzo che fa video contest su fortnite oggi ragazzi ci regala 2.500 800 v bucks 2800 v bucks per uno di voi me li prendo io me li prendo io tra due litiganti te li prendi te porca miseria ragazzi il video lo conoscete benissimo è come se fosse un contest ma mi raccomando per partecipare dovete prima iscrivervi al canale di pro capuano attenzione che vi vediamo mi raccomando commentate sotto questo video la parola che vi dirò adesso porca quanti v bucks porca quanti v bucks noi faremo l'estrazione alle 22 come solito ne approfitto per dire che se per caso vi iscrivete anche da me e arriviamo a 68 mila iscritti ci sarà un altro contest da 10 euro perché sono povero noi ci vediamo in live stasera ciao